La Sala Tinozzi della provincia di Pescara gremita di personalità questa mattina per la presentazione dell'ultimo lavoro editoriale dell'economista Giuseppe Mauro. Nel libro, dal titolo Campioni nascosti, storie di imprese che fanno crescere l'Abruzzo, della casa editrice Carabba, vengono approfonditi i temi di una realtà locale di grande valore, ovvero le piccole e medie imprese abruzzesi. Le imprese che sono poco visibili sul mercato, non stanno sul palcoscendico, però danno un grande contributo allo sviluppo di questa nostra regione. Sono imprese molto competitive, imprese efficienti da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale sono presenti sul mercato in maniera interessante. Un grande lavoro che ha comportato anche il coinvolgimento di numerose imprese, ben 22. Sì, sono 22 imprese che vengono compresi tutti i settori produttivi, dalla moda all'automotive, per fare qualche esempio, imprese che hanno una grande tradizione storica come la produzione di zafferano, ad esempio, che è un po' anche questa, una tradizione vecchissima, che si tramanda e rappresenta anche in queste circostanze un ruolo, direi, internazionale per la qualità del prodotto. Ecco, sono tutti esempi che danno il senso di come l'Abruzzo si è sviluppato, quali sono le sfide che ha affrontato, qual è la sua evoluzione economica. Questo è il dato interessante. Per cui noi abbiamo imprese che sono nate durante il periodo del grande sviluppo, altre invece che hanno, dalla crisi economica a livello internazionale, hanno colto, come dire, l'idea di cambiare e di fare nuove strategie. Oltre al libro, è stata realizzata anche una docu-serie curata dalla direttrice di Confim Industria Bruzzo, Alessandra Relmi. È una docu-serie di 19 puntate che racconta con le immagini quello che il professore, insomma, ha messo su carta. Quindi abbiamo voluto raccontare questi campioni nascosti nelle due modalità fruibili per il pubblico, quindi sia attraverso il libro, dove ovviamente il professore si concentrerà di più sull'aspetto economico e tecnico delle aziende, mentre io nella docu-serie cercherò di raccontare la parte più emotiva, quindi vedere i volti che si nascondono dietro queste meravigliose aziende, le storie e le emozioni, insomma, che possono e che solo la modalità video ti può comunicare.